Poracci, benvenuti o bentornati sul mio canale. A quanto pare, finalmente ci siamo. I rumor sul prossimo Nintendo Direct sono letteralmente esplosi e tutte le fonti più affidabili sembrano puntare su un'unica data. Ovvio, non c'è nulla di ufficiale e vista la comunicazione imprevedibile di Nintendo negli ultimi mesi, vi invito come al solito a prendere questi video per quello che sono delle semplici speculazioni. Ma fossi in voi mi segnerei il 28 agosto, venerdì prossimo, e in questo breve video andremo a vedere non solo perché i rumor per il Direct sembrano puntare tutti su questo giorno, ma anche cose lecite aspettarsi di trovare all'interno di un evento del genere, basandomi anche sui vostri feedback e le vostre aspettative. Detto questo, come al solito, se questi video vi piacciono mi raccomando lasciate un like e iscrivetevi al canale per essere sicuri di rimanere aggiornati sul mondo Nintendo e dei videogiochi in generale. Ancora una volta è stato Jeff Grabb, giornalista di VentureBeat, ad attirare l'attenzione dei fan con una dichiarazione che lascia poco spazio all'immaginazione. Durante il suo podcast GamesBeat, di cui vi lascio il link in descrizione, intorno all'ottavo minuto, dopo aver discusso del recente Indie World, il giornalista ha iniziato a parlare del prossimo Direct targato Nintendo. Secondo il presentatore, quella del 28 agosto sarebbe la data designata per il prossimo Direct, ma ci sono parecchie cose di cui tener conto. Innanzitutto Grabb, sebbene pensi possa trattarsi di un General Direct a tutti gli effetti, non esclude la possibilità di un partner showcase come quello che abbiamo visto a luglio, visto che era stata la Nintendo stessa a dichiarare che ci sarebbero stati altri appuntamenti del genere in futuro. Purtroppo la casa di Kyoto fa ricadere sotto l'etichetta del Direct tanti tipi diversi di appuntamenti e per questo, e per quanto il giornalista sia sicuro che venerdì vedremo qualcosa del genere, non sa bene quale sarà la tipologia della presentazione. Da notare però che in previsione di un meeting straordinario previsto con gli investitori per metà settembre, Grabb è convinto che Nintendo voglia al più presto presentare la line-up dei suoi prossimi mesi per non arrivare impreparata all'appuntamento. Quindi sappiamo benissimo che Nintendo ha tantissimi assi nella manica, devi solo decidere dove e quando presentarli. Con il mio Poro Predict avevo ipotizzato che per fine agosto-inizio settembre avremmo avuto un grosso evento dedicato a delle novità di peso, verso il periodo delle vacanze invernali, e vedendo anche il vostro feedback sul community post, è chiaro che le aspettative siano indirizzate verso un Direct a tutti gli effetti. Per quanto sia generalmente d'accordo con un'ipotesi del genere, tanto da fan che sperano una bella mossa da parte di Nintendo, quanto analizzando razionalmente la situazione, vi invito, come al solito, alla calma più assoluta, perché nel crearsi troppe aspettative si rischia di rimanere facilmente delusi. Prendete anche queste ipotesi come uno scenario molto probabile. Venerdì potrebbe esserci un Partner Showcase, un evento minore di 8 minuti dove magari alla fine verrà presentato Non Moriros 3, ma questo non precluderà la possibilità di un Direct completo nelle prossime due settimane di settembre, un evento che, meeting con gli investitori o meno, sarebbe assurdo se non venisse proposto da Nintendo. Tra l'altro, secondo Grab, la grande N è finalmente pronta per parlare della 3D Mario Collection. Quindi, poracci, nel caso questa settimana dovesse arrivare un Partner Showcase, non perdete le speranze. Secondo me, entro metà settembre avremo finalmente il Direct che aspettiamo da quasi un anno. E voi cosa ne pensate? Vi fidate di Grab? Cosa succederà questo venerdì? Vi aspetto nei commenti, vi assicuro che li leggo dal primo all'ultimo e quando possibile provo a rispondere a tutti. Per finire, come al solito, se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle Porotifiche per essere sicuri di rimanere sempre aggiornati sul mondo Nintendo e dei videogiochi in generale. Io sono il Poro Direct, Predict Michele, ciao! Grazie a tutti!